Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Monte San Savino e Valdarno e tra Firenze in Prunete e Barberino di Mugello. Spostiamoci sulla 12 dove a causa di un incidente si registrano code tra Carrara e l'allacciamento con l'A15 in direzione Genova. In A15 invece per traffico intenso rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Città di Firenze si ricorda che domani lunedì 24 giugno in vista dei pochi di San Giovanni sono previsti divieti di sosta e transito in piazzale Michelangelo e sui Lungarni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!